Amici di Youtube ben trovati da Marco Ligueri, a volte la realtà supera la fantasia e supera anche le situazioni grottesche dei film comici, uno su tutti, Toto Truffa, la notizia di oggi proviene da Napoli, laddove una anziana signora ha vinto 500.000 euro al gratto e vinci, mentre si apprestava a far controllare il prezioso tagliando dall'esercente, quest'ultimo proprietario dell'attività ha impugnato il biglietto ed è fuggito in moto, ma a poco è valsa la fuga, infatti la signora ha subito denunciato la cosa, quindi il proprietario dell'attività si è trovato in mano un biglietto che era poco più di carta straccia, che dire un episodio grottesco quanto una pessima pubblicità per tutti i tabaccai d'Italia, e ovviamente si dissociano dal vile gesto, un vecchio monito giapponese diceva, chi non sa sorridere, non può aprire un negozio, potremmo aggiungere a questo monito, chi non rispetta le persone, chi non lavora con gentilezza, non dovrebbe aprire, nessuna attività, ciao a tutti.